Musica Va bene ragazzi eccoci qua Cambiamo modalità di gioco Modalità zona splat Nella mappa della raffineria Perfetto squadre caricate E si parte velocissimi Mi sa che dall'altra parte Qualcuno si piazzerà come cecchino Qui sopra Ah guardate stanno già arrivando Eccolo lì il rullo dinamo Di Alessia Che prima ha preso il secchiostro Ok siamo esplosi tutti quanti Ok come immaginavo Qualcuno si è piazzato Sopra qua Provo a piazzarmi anch'io Ok Ok sono tutti lì sotto Tre rulli incredibili Eh vabbè niente Ok abbiamo bloccato il timer Ma se rimangono lì Hanno già la partita in pugno Eh no però Ah ok Ah ok in ritardo ma ho splattato Sia Alessia sia Niccolò Però ragazzi dovete sfruttare queste cose Perché se no vinceranno facilmente Ok ce l'ho fatta Zona nostra Ah è scappata via Ha presa Mi sparo questo Ok finalmente abbiamo fatto partire il timer Preso Niccolò Stanno arrivando Eh no però stavolta mi hanno preso l'oro Vabbè almeno abbiamo fatto partire il timer Dai 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 su 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 Hanno bloccato il timer Zone di nuovo loro Ok timer nemico bloccato Vai che ci siamo ripresi bene Stiamo cercando di Tenerli alla larga Ok che vengano Che vengano Tanto ho piazzato la mina No ma non muore più Non muore Ah ok No c'era la PC bomba Di Niccolò Però caspita Alessia era invincibile Hanno fatto ripartire di nuovo il timer Questa non ci voleva Ok bravi Mamma mia signori Beh che non esplodono mai loro Non riesco a capire perché O esplodono in ritardo O non esplodono proprio Ok Ok timer nemico bloccato Eh però ok Esplode sempre in ritardo Alessia Esplode sempre in ritardo Ok bravi ragazzi E' una bella battaglia questa qua E' una bella battaglia Pensavo Terminasse in 4 e 4 8 la partita Invece siamo riusciti a Impedirgli E la la Ah Adesso si sono piazzati La sopra Ah li vado a pigliare Tanto si saranno già accorti Infatti Si sono subito accorti Che Avrei fatto il giro Beh almeno ho fatto guadagnare Secondi ai miei compagni di squadra No Ho fermato di nuovo il timer Che stress Ok timer di nuovo nostro Ho preso Niccolò C'è sempre qualcuno Lì sopra Vabbè che basta mantenere Il controllo Ha fatto il giro Ha fatto il giro Ok Alessia è morta Dai che siamo in vantaggio Incredibile signori Manteniamo il controllo Dai dai 10 secondi 9 8 7 6 2 1 Incredibile vittoria Mamma mia signori Che vittoria Abbiamo sconfitto una squadra di rulli Dinamo Mamma mia Bravi ragazzi Bella partita Veramente una gran bella partita Complimenti anche ai nostri avversari Che si sono comportati molto molto bene 3 rulli c'erano dall'altra parte Va bene ragazzi Rivincita Altra partita nella modalità zona splat Mappa raffineria Stavolta cambiamo colore Siamo blu contro Verdini Però caspita Dall'altra parte È già crashato qualcuno Non è detto che riusciamo lo stesso però A portarla a casa Siamo 4 contro 3 L'unica cosa la vedo dura per i nostri avversari Perché noi abbiamo due rulli Dinamo Sì è vero Prima abbiamo sconfitto La squadra Dei rulli Dinamo Ok non sto colorando Ah vedete ho qualche piccolo problema di connessione Ah ok adesso ho ripreso Eh si sono piazzati lì i nostri E li stiamo praticamente impedendo di muoversi Però loro nel frattempo no Ah ok abbiamo fatto ripartire il timer Qui sapete cosa faccio Gli do una ricolorata Così ci mettono tre quarti d'ora A tornare su No è scappato via Mi sa che ho dei piccoli problemi di connessione Ok Sono andato ad inseguirli Questa partita probabilmente ragazzi durerà Pochi secondi Ok gli ho portato via la loro zona Eccoli che arrivano No mi hanno mirato Hanno visto che ero lì sopra Dai che però abbiamo guadagnato un sacco di secondi Come immaginavo stiamo praticamente dominando Beh abbiamo già praticamente vinto Ok vittoria Ok partita terminata mi spiace per la squadra avversaria Che erano solamente in tre Un vero peccato Ok Abbiamo stravinto Sicuramente non è stata emozionante come la partita di prima però eh Caspita poche armi dorate eh Però poche armi dorate Crashato Favijay Va bene ragazzi Riproviamo di nuovo a giocare nella modalità torre mobile Purtroppo sono crashato pure io prima Siamo nella mappa ponte sgombro Oh finalmente di nuovo 4 contro 4 E si parte velocissimi Prima eravamo 4 contro 3 Un po' mi dispiaceva per la squadra avversaria Perché secondo me è sempre meglio giocare comunque 4 contro 4 Attenzione che zitti zitti I blu sono andati a prendersi la torre Ok splattati Che casino Sono tutti lì eh Ok ne ho presi due Ho preso Nova e forse anche Fede infatti Perfetto abbiamo riconquistato la torre Hanno fatto Già un bel po' di punti Perché sono a 65 punti dalla nostra zona Vai Alessia Ragazzi portate avanti questa torre Guarda come arriva il pennello Ok bloccato Qualcuno salga su quella torre Preso Razzo qua Dove caspita Ah sono qua sotto i blu Ok ho splattato Fede Dov'è la torre? Ah è già passata Perfetto siamo in vantaggio Preso Ho splattato Favij Torre in mano nemica Torre in mano nostra E si torna indietro No torre in mano nemica Ok No non l'ho preso Oh si Si ho preso Nova Oggi il gioco me lo comunica sempre Con un leggero ritardo La torre è tornata in mezzo Allora creiamoci questa scaletta I blu stanno tornando Aia Stavolta il cecchino Ah no mi ha preso Fede con cosa? Ah con una bomba splash Ok Pensavo il cecchino avversario Super salto Ok uno sta mantenendo il controllo Della torre Favij mi Ah no Stavolta mi ha preso Stavolta mi ha preso Stavo per dire Favij Non ti mettere lì che così ti splatto Dai Bella vittoria ragazzi Purtroppo non ho potuto partecipare all'assalto finale Però bella vittoria Sono partiti bene i blu Poi si sono persi Siamo riusciti a schiacciarli Ottimo lavoro signori Adesso direi di passare all'ultimo match di oggi Sempre nella modalità torre mobile Va bene ragazzi Ultimo match di oggi Mappa raffineria Modalità torre mobile Dai che prima siamo andati bene Speriamo di poter replicare il risultato Non mi piace che due di voi abbiano preso lo Lo splatter lunar Il blaster lunar scusate Mi stava sfuggendo il nome Però vabbè Ce la faremo Guarda lì che assalto Che assalto dei viola Mamma mia signori Che assalto Tra secchiostri e blaster vari Che assalto Hanno preso loro la torre Hanno preso loro la torre Blocchiamoli Blocchiamoli No 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 Così non va Così non va Mi ha preso Nico Che poi ho anche splattato Dai ragazzi Dai Dai facciamo che passare di qua No 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 Stavo per sbagliare strada Ok ho fatto che dare una colorata già qua Torre nostra Vai vai Torre mano nemica Mi stanno inseguendo tantissimo C'avevo Alessia Che mi stava inseguendo E' stata poi splattata da Favij Che si è scontrato con un avversario No dai Avevamo preso il largo Adesso ci hanno riportato in mezzo Teniamola là Ok bloccata Ok preso Preso No dai Avevo il razzo Accidenti avevo il razzo Ho splattato Fede Ma sono stato splattato da Nova Attenzione C'è un viola in zona C'è un viola in zona Super salto E niente La torre torna di nuovo indietro La riprendo io E si riparte E si riparte No Fammi salire Ok bravo Io intanto coloro di lì Tanto adesso loro si mettono di qua Ok ho preso Super Nico Però è veramente sempre un gran casino lì Ok Ce l'hanno in mano loro forse Ce l'hanno in mano loro È un bel match questo qua Aia Si è accorto che ero lì Bravo Bravo Favij Eh no Stavolta hanno preso loro il largo Dobbiamo bloccarli Dobbiamo bloccarli Adesso vuoi vedere che vanno in vantaggio Adesso prendono Ecco sono in vantaggio Te pareva Eh no C'è Alessia che sta dominando Con sto caspita di secchiostro Sta facendo un macello Niente Ci fregano alla fine Ci fregano alla fine Ci han fregati alla fine Vabbè pazienza è andata così Peccato eh Peccato perché potevamo portarla a casa noi Ma ci siamo persi Vabbè Una partita a testa Va bene così Purtroppo i nostri rulli Non sono bastati Eh poche kill Poche kill Va bene ragazzi Visto che c'è ancora tempo Facciamo che giocare ancora una partita Nella modalità Mischi e mollusche Siamo nella mappa del magazzino Dai E là Abbiamo quasi preso tutti quanti Il Lo splasher wasabi Una delle mie armi preferite Perfetto Facciamo i grandi danni Partiamo velocissimi Attenzione Attenzione Non è caspita L'avevo pure colpito L'avevo pure preso Nova È stato poi splattato Dai miei compagni di squadra Ok si riparte Ce n'è forse uno Anche dall'altra parte Ok via Lo spruzza colore Alle spalle Alle spalle Mi sono girato Dalla parte sbagliata Cress one Con l'aerografo Ha fatto un macello Adesso i rosa Stanno leggermente Prendendo il largo Vai Marco Abbiamo bisogno di te Ok Facciamo arrivare anche il mio compagno di squadra Perfetto Io passo di qua Passiamo velocissimi Ok Ok No ho già finito l'inchiostro di nuovo Oh è là Chi c'era? C'era Alessia Non mi ero neanche accorto che era lì No È scappato via Qui è tutta roba mia Allora Razzo Preso Oh è là Doppia kill Nico e Cress one Probabilmente l'ho preso anche con il razzo Ok Ho preso anche Nova Che si stava concentrando sul mio compagno di squadra Gran bel lavoro di squadra ragazzi Dai che stiamo ribaltando la partita È tutta zona nostra adesso Grande Attenzione No avevo il razzo a disposizione Eh forse Dovevo stare un attimo nelle retrovie Vai Favij Non perdere tempo Parti 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 Che sennò perdiamo secondi preziosi Mamma mia Mi hanno ferito Attenzione Eh in tre addirittura Tutti di lì Tutti di lì Un bel razzo E facciamo una strage Ragazzi non aspettatemi Veramente Perché sennò perdiamo Dei secondi preziosi Guardate qua che roba Io per adesso provo a fare un giro veloce di qua Ma tanto Qualcuno qua sotto Mi aspetterà di sicuro Eh no C'è sempre Alessia Che salta fuori all'improvviso Dai spingete Su spingete Io non posso fare più nulla Non posso fare più nulla Eh niente Vediamo se basta Quello che hanno combinato alla fine Però non lo so Non lo so C'è un po' di verde e rosa ovunque sulla mappa Eh 44-43 Invece basta ragazzi Gran bella vittoria Ottimo lavoro Mentre ero KO Siete riusciti a ribaltare il match Bravi 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 E complimenti naturalmente anche gli avversari Perché hanno saputo tenerci testa Va bene ragazzi Eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli Per i saluti finali Come sempre Fantastiche Mischie Mollusche Ci siamo splattati Abbiamo vinto Abbiamo perso Insomma al solito Tran tran Ragazzi come sempre Spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui su Splatoon Alla prossima ragazzi E ci vediamo in un prossimo episodio